salve sostituisco il video 8 precedente perché era davvero inguardabile cominciamo dal potente concetto di maschera le maschere selezionano una regione del frame creando un matte cioè un canale alfa possono essere usate in congiunzione con gli effetti per applicarli per esempio solo ad una zona specifica un altro affascinante uso è nel rotoscoping per creare per esempio la spada laser di star wars ma gli usi sono tantissimi e non dissimili da quelli è possibile fare in gimp come nei programmi di fotoritocco infatti la mascheratura crea un canale alfa che si fonderà con le nostre tracce in due possibili modalità di sovrapposizione come già detto il compositing in sinelera consiste in una fila ben determinata di processi consecutivi in inglese pipeline le maschere sono elaborate dopo la formazione del temporari e prima di arrivare al proiettore cioè all'output questo comporta che tracce multiple sono influenzate dagli stessi parametri di maschera poiché arrivano insieme all'output finale per ogni traccia possiamo arrivare fino ad otto maschere distinte create e modificate indipendentemente le une dalle altre solo quando si arriverà a fonderle con la traccia si potrà scegliere un unico modo valido per tutte per creare una maschera si attiva il pulsante mascheratura e visto che ci siamo anche la relativa finestra tool portando il cursore del mouse su schermo si vede che è diventato una croce facendo clic si crea un grosso punto grigio che è il punto iniziale e finale della maschera questa infatti deve essere per forza una forma chiusa poi si crea un secondo punto piccolo e vuoto e un terzo a questo punto ci sono già abbastanza punti per creare una forma e automaticamente si chiuderà tornando al punto finale possiamo comunque aggiungere altri punti dove vogliamo oppure crearli anche lungo le linee fra due punti già esistenti l'ultimo punto cliccato è il punto attivo e da vuoto diventa pieno se avviciniamo la croce ad uno dei punti la sua forma cambierà di nuovo a freccia bianca ora possiamo trascinare il punto dove vogliamo cambiando quindi la forma della maschera usando shift più click più drag invece rendiamo attivo il punto più vicino al cursore e lo trasciniamo come vogliamo questa comodità permette di velocizzare il lavoro perché non c'è bisogno di centrare perfettamente il punto da attivare cioè facendo diventare la freccia bianca basta solo avvicinarsi grossolanamente e poi agire se invece usiamo contro più clic su un punto esistente lo trasformiamo in un punto di una curva di bezier cioè smussata e compariranno le relative maniglie sempre tenendo premuto contro possiamo trascinare il punto di controllo della maniglia fino a che la curva risultante non ci soddisfi è importante abituarsi le curve di bezier sia perché comode e potenti una volta presa confidenza sia soprattutto perché è bene tenere basso il numero di punti di una maschera per motivi di stabilità e di velocità per usare bene le curve di bezier dobbiamo capire che il braccio di una maniglia rappresenta la tangente della curva passante da quel punto essendoci due maniglie indipendenti possiamo avere due curve diverse ognuna con la propria tangente che convergono in quel punto variando l'angolo della maniglia pariamo la pendenza della curva variando la lunghezza della maniglia variamo il raggio di curvatura al limite possiamo anche ottenere curve lineari con angoli acuti portando per esempio il braccio a zero l'uso delle maniglie ci permette di ricalcare una figura usando molti meno punti se non ci credete proviamo a costruire un cerchio che se usiamo spiegoli mossati servono come minimo ma in realtà sono insufficienti servono come minimo otto punti che poi possiamo sistemare meglio però il risultato per simulare un cerchio è veramente scadente se invece vogliamo usare le curve di bezier bastano solo quattro punti si piegge a click per crearci le nostre maniglie di bezier che poi andremo andremo a curvare come più ci aggrada per ottenere un cerchio molto più lineare e molto meglio fatto e molto più realistico beh in pochissimo tempo si può rifinire certamente meglio però la differenza con quello speculoso è evidente un'altra funzionalità delle maschere è la traslazione dell'intera maschera creata con i tasti control alt e cliccando e trascinando dove ci dove vogliamo per esempio intorno al nostro aereo invece volevo darvi un avvertimento cancelliamo anche questa tenendo peggiato shift per cancellarla tutta e non colpo solo volevo darvi un avvertimento e se usiamo i keyframes automatici e creiamo una maschera che poi vogliamo cambiare durante il percorso del filmato della clip non conviene aumentare o diminuire i nodi della maschera ma lasciare lì invariati il numero totale e semmai spostarli traslarli o fare quel che ci pare ma non aumentare i numeri perché vengano fuori dei problemi ve lo dimostro con un esempio abbastanza semplice qui abbiamo creato il nostro primo keyframe all'inizio poi andiamo in un'altra posizione con control alt drag ci spostiamo da un'altra parte e aumentiamo oltre a spostare che questo non è un problema aumentiamo anche i numeri dei nodi qui ne abbiamo aggiunti altri due oltre a degli spostati invece nella maschera principale la trasliamo anch'essa e poi non variamo il numero dei punti ma semplicemente modifichiamo la forma andiamo a fare una terza prova ancora la trasliamo e modifichiamo ancora una volta la forma senza variare il numero dei punti ritorniamo alla seconda maschera trasliamo anche questa in una nuova posizione e questa volta riaumentiamo un'altra rivolta il numero dei punti le modifichiamo per l'ennesima volta ecco facciamo basta così per l'esempio chiudiamo keyframe automatici ritorniamo all'inizio e facciamo partire la riproduzione vedete vedete i vari artefatti che poi il risultato va bene ma nei passaggi nel che nel calco dei keyframe intermedi abbiamo parecchi problemi cosa è qua su invece guardate la maschera in alto non succede mai interpolazione fra una forma e l'altra è perfetta solo solo in questa qui dove abbiamo variato il numero dei nodi invece abbiamo degli artefatti molto brutti quindi ripeto il consiglio è quello di non variare il numero dei nodi se partiamo da un progetto complesso e qui prevediamo che dovremo aumentare il numero nodi per perseguire il soggetto da mascherare la cosa migliore è partire subito un numero eccessivo di nodi e poi mantenere quello stabile e modificarli alla alla convenienza del momento continuiamo la descrizione per cancellare un singolo punto dobbiamo renderlo attivo e poi andare sulla finestra tool e usare il tasto cancella per eliminare l'intera maschera si deve agire così punto dopo punto ma ancora meglio si può usare shift più clic sul pulsante cancella per cancellare tutta la maschera selezionata in una volta sola adesso una cosa strana nel manuale cv il comportamento di shift più clic più drag e di ctrl più clic più drag sono invertiti rispetto a come funzionano a me è un cambiamento della 5.1 non saprei dire ormai non reinstallo la cv per controllare magari se potete dirmelo voi esaminiamo meglio la finestra tool il campo modo ci permette di scegliere il modo di fusione del canale alpha con le tracce ci sono solo due modalità invece delle 30 presente nella patch bay quello di default cioè su try alpha apre un buco nella traccia superiore per far vedere quello che c'è sotto invece incrementa alfa rende trasparente tutta la traccia superiore tranne che nella regione della maschera subito sotto c'è lo slider per regolare l'opacità l'effetto opposto nei due modi di sovrapposizioni in sottraia alfa la regione della maschera è totalmente trasparente se portata al 100 per cento e totalmente opaca se portata allo 0 per cento in incrementa alfa invece la maschera è totalmente opaca al 100 per cento e totalmente trasparente allo 0 per cento sotto lo slider c'è il pulsante cancella che ormai conosciamo e non ci ritorno sopra nella 5.1 si può attivare un punto anche immettendo il suo numero nel relativo campo subito a destra di cancella ma bisogna conoscere ricordarsi il numero di quel dato punto sotto ancora c'è la possibilità di creare fino ad 8 maschere per singola traccia e di rendere modificabile una o l'altra tramite il suo numero ricordiamo che in caso di molteplici maschere verranno usati gli stessi parametri per tutte le maschere di default le linee dei bordi della maschera sono definite e nette hard in inglese si possono rendere soft cioè sfumate con il comando fedar in italiano nervatura attenzione però più la sfumatura del bordo sarà grande e più lavoro toccherà al motore del render i ampi x e y permettono di posizionare con precisione ciascun punto attivo come novità della 5.1 ci sono dei testi di promemoria sull'uso dei tasti shift control e alt e ancora due caselle da spuntare la prima per applicare la maschera sotto i plugins e non sopra come nella pipeline di default la seconda per disabilitare il render open gl in caso di instabilità come infatti a me succede guardate per esempio lo strumento nervatura nei due casi stranamente con open gl attivo se hanno seguitature invece della corretta sfumatura disattivando open gl funziona tutto bene da ultimo lasciato la cosa più importante riguardo le maschere i keyframe automatici per esempio se si applica una maschera ad un video per circondare un aereo in volo e tale aereo si sposta nel tempo la maschera rimarrà fissa nella stessa posizione dove l'abbiamo creata mentre l'aereo ne esce proseguendo la sua corsa quindi dobbiamo abilitare fotogrammi automatici con il relativo pulsante e spostare e modificare la maschera frame per frame in modo che resti sempre in relazione all'aereo possiamo saltare qualche fotogramma per fare prima o anche saltare di qualche secondo se è possibile ma attenzione a fare lavori imprecisi facciamo allora un esempio di uso dei keyframe automatici il problema è questo se noi creiamo una maschera intorno all'aereo e riproduciamo il filmato si vede che la maschera resta fissa nella sua posizione l'aereo segue invece il suo percorso quindi quello che vogliamo fare noi ora scancelliamo questa maschera quello che vogliamo fare noi e spostare la maschera di frame in frame in modo che resti sempre intorno all'aereo e che segue quindi il volo dell'aereo verso destra per fare questo non si usano i keyframe automatici incominciamo a creare la nostra maschera io la faccio grossolanamente per non perdere tempo e vediamo nella timeline che si è fermato sformato il primo keyframe poi andiamo in una nuova posizione e modifichiamo o trasliamo la maschera in modo che comprenda sempre l'aereo e si è creato il secondo keyframe continuiamo così qui c'è bisogno di una traslazione e rimpiccoliamo un pochino questo e facciamo un ultimo keyframe anche qui penso basti la semplice traslazione ecco qua traslato in questo abbiamo creato il quarto keyframe togliamo ora la spunta e vediamo il nostro filmato come si comporta questa volta segue qui c'era un problema che l'aereo uscito e quindi andrebbe riaggiustato perché ha fatto i keyframe un po troppo distante non ho seguito keyframe per keyframe oppure per intervalli piccoli in cui non c'erano problemi ora dovrei intervenire non lo faccio in questo esempio per brevità comunque come conclusione di parlare le maschere l'avevo detto che i keyframe e le maschere scorrono potenti in sinelera finito di esaminare le maschere passiamo alla funzione crop il ritaglio riduce l'area del fotogramma dell'intero progetto attenzione lo ripeto dell'intero progetto cambiano cioè le dimensioni in pixel dell'output intervenendo sui valori x e y del proiettore quindi attenzione nel fare un crop cambiando la risoluzione dell'intero progetto cambiano tutte le tracce sulla timeline che ne siate consapevoli o no sappiate anche il crop proprio per questa ragione non è possibile accoppiarlo al keyframe applicare un ritaglio è facile si clicca su di un punto e si trascina creando un box che definisce l'area di crop la forma è solo rettangolare se non ci piace l'area ottenuta si può semplicemente fare un altro click in un'altra posizione e ricominciare da capo come al solito per traslare l'intero rettangolo basta fare ctrl più alto più drag nella finestra tool si può intervenire su più opzioni i punti importanti del rettangolo sono quelli in alto a sinistra cioè il punto di partenza che viene indicato con x 1 e y 1 e poi si decide la larghezza e l'altezza del rettangolo a partire da x 1 e y 1 usando i campi w e h wide e height una volta soddisfatti del risultato possiamo eseguire il crop con il tasto fallo la porzione tagliata via scomparirà e il box del crop si ingrandirà fino a riempire tutta la schermata del compositore diminuendo di conseguenza la risoluzione dell'intero progetto questo lo possiamo vedere da impostazioni formato se vogliamo tornare indietro perché non soddisfatti non è cosa facile proprio perché abbiamo cambiato tutto il progetto per prima cosa dobbiamo riportare il progetto ai valori originali da impostazioni formato e reimpostando da capo i valori originali poi dobbiamo cliccare sul destro nella finestra compositore e scegliere reset projector scendiamo ancora nella barra verticale degli strumenti e troviamo safe regions il manuale dice che su un monitor di bassa qualità l'area vicina ai bordi può non essere visualizzata correttamente se non operiamo proprio in quelle zone potremo avere problemi per stare sul sicuro conviene intervenire solo dentro le guide quella interna soprattutto che riguarda principalmente il posizionamento dei titoli tali box possono anche servire come guide casomai ci servano delle linee di riferimento finito l'esame della finestra compositore vorrei soffermarmi ancora su di un concerto importante la dimensione delle tracce la taglia del temporary e la taglia dell'output sono indipendenti e variabili fra di loro la cosa migliore ma non obbligatoria e decidere dapprima la taglia dell'output possibilmente guagliandola a quella del progetto in modo da avere un punto di riferimento sicuro per il rendering finale invece la dimensione del temporary la possiamo variare a piacimento per sfruttare tutte le possibilità che offre ricordiamo che la dimensione del temporary è la dimensione della viewport gli effetti sono processati nel temporary quindi sono influenzati dalla sua taglia se il temporary è più piccolo dell'output in questo ultimo appariranno delle bande vuote per riempire le zone mancanti di dati se il temporary è più grande dell'output verrà ritagliato per adeguarsi all'output i dati in più verranno persi la dimensione del temporary è definita come la dimensione della traccia da cui puoi ricavare la viewport differenti tracce possono avere differenti taglie si sa che facendo clic con il destro su una traccia si apre una finestra pop up selezionando resize track si può scegliere la dimensione della traccia e quindi del temporary e quindi della viewport la dimensione del progetto però rimane quella iniziale nel mio caso 1920x1080 si può portare la viewport alla taglia dell'output con il comando match output size per imporre alla traccia le dimensioni dell'output e giocando su queste relazioni di dimensioni fra temporary e output che possiamo creare effetti come zoom panoramiche e split screen vorrei far notare che nello scorso video avevo parlato della dimensione della viewport ma non avevo fatto vedere come fare spero ora di aver rimediato mostrando questi comandi la dimensione dell'output lo sappiamo ma lo ripeto sono decise quando creiamo un nuovo progetto oppure dal menu impostazioni formato o anche dalle finestre risorse cliccando con il destro su di un media e scegliendo match project size quando creiamo nuove tracce sulla timeline e se assumono automaticamente le dimensioni del progetto ecco fatto nel prossimo video parleremo dei keyframe argomento bello importante e tosto ecco